Christian Eriksen! 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 Perché è un esterno, lui ha bisogno di spazi, di rientrare, di tirare, di crossare, non lo puoi mettere dentro l'aria Quindi un giocatore così era veramente sprecato Quindi auguro a Matteo Politano un grande, un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura a Napoli Che a Napoli possa fare veramente bene e io credo che lui ci riuscirà Parliamo del giocatore che abbiamo compilato noi, Christian Eriksen Più di 60 assist, più di 50 gol, finalmente un regista, non se ne vedeva dai tempi di Wesley Snyder Questo mi sembra un colpo alla Wesley Snyder, un grandissimo centrocampista Con lui poi sia tenere questo modulo che avere il trequartista, che giocare con due dietro l'attacco È un giocatore che per il centrocampo va a dare qualità e tanta tanta sostanza Sono veramente felice, Christian Eriksen nasce in Danimarca il 14 febbraio del 1992 Il giorno dedicato agli innamorati nasce Christian Eriksen nell'anno in cui la Danimarca vincerà l'Europeo di calcio Quindi un predestinato sotto tutti i punti di vista nasce nella città dove è nato un altro personaggio molto famoso Che sarebbe Hans Christian Andersen e voi direte chi minchia è questo qua e dove ha giocato? Non ha giocato da nessuna parte perché Hans Christian Andersen è colui che durante il Medioevo ha scritto le fiabe più famose Che poi sono state trascritte dai fratelli Grimm e su cui la Walt Disney ci ha fatto praticamente una carriera La più famosa la Sirenetta, tant'è che la statua di Copenhagen che la rappresenta è l'icona della città Arriva un danese, ora a memoria non mi ricordo se abbiamo avuto altri danesi, sinceramente non ci penso Se sono sicuro che Young è il terzo inglese, su di lui non mi voglio sbilanciare Prende il numero 24, quindi è arrivato un vichingo, è arrivato uno di sostanza È arrivato un personaggio grosso nel mondo del calcio, è arrivato veramente un top player Dopo Romelu Lukaku arriva Christian Eriksen Perché non parlo degli altri? Per un discorso di età Alexis è un campione, è un top player alla sua età Quindi l'abbiamo preso per il presente Young l'abbiamo preso per il presente Moses l'abbiamo preso per il presente Investimenti come Lukaku ed Eriksen sono per il presente e per il futuro E il bello di vedere questi giocatori Significa che l'Inter è di nuovo appetibile a giocatori di un certo livello Con il nuovo progetto, con il nuovo mister, con questa società forte Che anno in anno è sempre più forte, dobbiamo sempre ringraziare Steven Zhang Sempre, perché si vede che ci tiene, perché sta investendo tanto Perché sta aumentando il fatturato E quindi grazie, grazie a Steven Zhang, grazie al padre Grazie all'intera compagnia Suning Grazie a Marotta per essere arrivato Perché io l'avevo già detto a dicembre dell'anno scorso Marotta è un punto di partenza Prendere Marotta significa voler svoltare E da Marotta poi è arrivato Conte E' tornato un grandissimo interista Lele Oriali Che è importantissimo in questa società Perché fa da cerniera, fa da perno e fa da tappa a buchi E cerca di essere colui che è più diplomatico L'abbiamo visto pure dopo quello che è successo col Cagliari Che è stato Lele Oriali ad andare a calmare gli animi E andarsi a tirare Antonio Conte Quindi Lele Oriali, veramente importantissimo Ausilio, non ho mai capito che figura è Ausilio Anzi addirittura gli hanno rinnovato il contratto a questo qua Ce l'abbiamo lì Qualche colpo buono l'ha fatto Qualche minchiata l'ha fatta Però, vabbè, ragazzi Sono veramente contento Non vedo l'ora di vederlo giocare Perché c'è la possibilità di vedere Christian Eriksen Soprannome Golasso Che gliel'ha dato pocettino al Tottenham Per i gol meravigliosi che fa E noi purtroppo ne sappiamo qualcosa Visto che a noi ne ha fatti due In Champions League Ragazzi, benvenuto a Christian Eriksen Benvenuto a Golasso Non vedo l'ora di vederlo giocare Magari già in Coppa Italia Contro la Fiorentina Sicuramente in campionato Visto le manca anche Lautaro A proposito, Lautaro Due giornate di squalifica Quindi il nostro Toro Manchierà il derby Purtroppo Ma li abbiamo I sostituti li abbiamo C'è Alexis Sanchez Che è carico a molla Che non gioca da tanto Sanchez è un giocatore esperto Ha un bel dribbling Ha un bel passo Ha uno scatto veloce A me Sanchez piace tantissimo Quindi mi dispiace per Lautaro Ma Sanchez Io penso che non lo farà Non farà sentire la sua mancanza Poi un'altra cosa Mi piacerebbe comprare La maglia dell'Inter Celebrativa del Capodanno cinese L'ho chiesto nel gruppo Del Fanta Calcio Sia mio fratello Che mio cugino Dicono che la più bella Che dovrei prendere È la maglia di Lautaro Secondo voi Scrivetelo qua sotto Nei commenti Qual è la più bella Lautaro Lukaku Skriniar Barella O Sensi Fatemelo sapere nei commenti Il mio video finisce qua Ancora benvenuto A Christian Eriksen Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Di Luigi Nerazzurro Siamo arrivati a 58 Dai che stiamo arrivando a 60 E poi si punta ai 100 Io vi saluto Nel bene e nel male Sempre Amala